Siamo al Museo del Presepe Etnico a Fiorano, una tradizione immortale che va avanti da diversi secoli e che non accenna a fermarsi. No, non si ferma e non si fermerà. Questo museo ospita circa 850 presepi di una collezione di oltre 1200 opere. Fu aperto dal babbo nel 2016 e poi dopodiché è rimasto un attimino chiuso durante la sua malattia e adesso è ancora aperto. Siamo aperti in tutte le domeniche e i giorni festivi del mese di dicembre e speriamo che molti possano venire a vedere tutti questi bellissimi capolavori che sono creati con tutti i tipi di materiali, quindi una cosa molto bella e molto utile soprattutto per i bambini che possono vedere che si può creare con qualsiasi tipo di materiale. Quest'anno avete implementato diversi presepi nuovi anche oltre i confini di Fiorano? Esattamente, anche gli anni passati alcuni di questi presepi sono stati adottati, diciamo così, in passato da Langhirano, poi siamo andati su Monte Creto, quest'anno siamo andati nelle Marche e 40 presepi sono ospiti del borgo di Gradara e altri 20 nel borgo di Cagli, sempre nelle Marche. Sono andati in gita, diciamo così, ad arricchire questi bellissimi borghi con questi bellissimi presepi. Ricordiamo infine, a proposito di adottare, la possibilità di adottare un presepe per sostenere il museo. Certo, volentieri, anzi grazie a tutti quelli che vengono qui al museo e se vogliono possono adottare un presepe, chiediamo un contributo di 10 euro, sul presepe che verrà scelto sarà posto un fiocco e un bigliettino che ho scritto adottato da, resterà adottato per un anno intero, quindi tutti quelli che verranno potranno vedere che quel presepe è piaciuto molto a quella persona che ci ha aiutato e aiuterà la sopravvivenza di questo museo.